Benvenuti a tutti, buonasera, vi ringrazio per essere qua e ringrazio anche l'organizzazione che ha reso possibile questa opportunità di incontro. Stasera presenteremo il libro che ho scritto dal titolo Vangelo Patico, pubblicato da Casa Editrice Anime Edizioni. Le persone che mi conoscono sono già che io sono un artista, un artista visivo, nella Mostra d'Arte qui sotto ci sono due miei lavori in esposizione e quindi ho notato che le persone che mi conoscono per le mostre che faccio hanno trovato un po' strano che ho anche pubblicato un saggio che tra l'altro dal titolo sembra che abbia argomenti spirituali all'interno. Mentre magari chi non mi conosce come artista non è rimasto disorientato e quindi ci pensiamo subito facendovi vedere un video che è l'ultima performance che ho fatto, adesso lo trasmetteremo e si tratta di una performance, magari mi sposto così lo rendo meglio visibile, ve lo propongo perché oltre a essere il video che documenta l'ultima performance che ho fatto e anche spiega bene il mio pensiero e quindi anche quello che c'è scritto nel libro e la mia arte. Questa performance l'ho fatta in collaborazione con l'artista Manuel De Marco che è un artista che apprezzo molto per il modo di cui è capace di trasformare pensieri e concetti in un gesto, in un'azione, quindi con l'utilizzo del corpo. Ho trovato quindi dispensabile collaborare con lui proprio perché questa era una performance che avrebbe messo in scena proprio fisicamente i miei pensieri, i pensieri contenuti nel libro. La performance, riusciamo a trasmetterla? Ok, allora la performance, già vi anticipo, ha un titolo da me inventato, si chiama Autosham. Sì, signor. Grazie. Grazie a tutti. 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 Allora, Otto Schamano, come detto all'inizio, è colui che non si identifica in nulla, neanche in se stesso. Quindi, secondo voi, chi era questo fantomatico personaggio? La prima figura oppure la seconda, quella che tornava? In realtà, ve lo dico subito nell'una e l'altra, ma in realtà sono tutte e due, nel senso che per poter diventare vero, lo può fare solo nella complementarità, nella fusione, nell'unione degli elementi. E quindi, come dire che questo fantomatico personaggi può essere rappresentato soltanto quando ci sono due figure insieme. Infatti, per quello che racconta anche dell'arte che faccio, perché come potete vedere dai paesaggi che io creo, si vede sempre più elementi insieme, fusi insieme, dei soggetti che si confondono e che non si capisce bene quando finisce uno inizia l'altro e più momenti e più spazi sovrapposti l'uno all'altro. Anche alcuni fisici, infatti nel libro utilizzo un po' di scienza per aiutarmi, alcuni fisici raccontano che l'universo è come se fosse tutti gli spazi e tutti i tempi concentrati in un unico punto, un unico contesto. In realtà, e grazie poi alla nostra capacità interpretativa che vediamo tutti in maniera distinta e differente, ma in realtà non è che ci sarebbero divisioni e lontananza fra me che sono qui e voi che siete lì. Quindi, il mondo verso il quale vorrei accompagnare le persone quando propongo i miei lavori nelle mostre, e in questo caso facendo vedere questo particolare personaggio, è appunto un mondo caratterizzato dall'assoluto, dall'indefinito, dalla sconfinatezza. E che porta anche a fare delle esperienze che vanno al di là del senso comune, proprio perché è caratterizzata da assolutezza e sconfinatezza. Allora, come poter fare questo tipo di percorso, questo tipo di esperienza? Come abbiamo detto, bisogna essere liberi dal mettersi a definire le cose, e questo non significa caos, non è che voglio accompagnare le persone quando le accompagno verso questo mondo, ad esempio, tra i miei lavori artistici, verso un mondo di caos, ma è il contrario, nell'armonia. Infatti, come abbiamo detto, l'altro sciamano si può raffigurare solo nella complementarità degli elementi, e quando c'è assoluto, c'è immedesimazione in qualcosa che è assoluto, allora la persona stessa diventa assoluto, diventa infinito. E se sei infinito, che cosa ti può mancare? Di cosa potresti aver bisogno? Allora, in questo libro sto effettivamente raccontando di una realtà che è, sì, presa, ad esempio, utilizzando quello che è contenuto del mangelo, ma è visionaria, perché ha bisogno di una capacità creativa per poterla vedere e anche rendere concreta nella nostra quotidianità. Parlando di arte, infatti, spesso quando vado a vedere le mostre, le persone si pongono davanti alle opere cercando di capire che cosa stanno andando di fronte, cercando di comprendere il significato. L'artista, quando ha realizzato quell'opera d'arte, ha intercettato qualcosa che è infinito, che è assoluto, e quindi non è in grado di poterlo trasmettere utilizzando le parole e i ragionamenti, che sono invece finiti e limitati, e quindi deve inventare un altro linguaggio, cioè l'arte. Quindi, se davanti a un'opera d'arte noi ci poniamo, facendoci delle domande logiche e cercando di comprendere quello che abbiamo davanti, allora ci stiamo precludendo da soli la possibilità di fare questa esperienza dell'infinito, di attraversare l'arte per raggiungere questo assoluto che l'artista ci vuole suggerire. Ovviamente non è per criticare le persone che guardano le opere d'arte e le mostrano in questo modo, anche io mi diverto a dare interpretazione alle cose che vedo, ma era solo per suggerire, per notare, che siamo spesso abituati, magari per come è fatta la società, a dare più importanza ai ragionamenti logici, a credere più alla mente logica, lasciando magari quello che invece sarebbe utile in questi casi, la mente creativa, trascurata. La mente creativa sarebbe appunto un po' l'opposto dell'utilizzare la logica, cioè lasciarsi andare oltre il convenzionale, oltre il senso comune, oltre appunto i confini, e poter appunto fare esperienze che non siano spiegabili. Infatti addirittura potrei anche invitarvi questa sera a non credere alle cose che io vi dico, perché se le credete, vuol dire che state cercando di capirle, e per comprendere dovete fare un lavoro mentale di logica che non è lo strumento giusto per poter andare ad assoporare questo assoluto di cui invece stiamo parlando. Quindi non è che c'è un modo sbagliato, un modo invece corretto, è che per fare un lavoro dove ci vuole la logica, dove ci vuole la prevedibilità, dove bisogna stare all'interno del già conosciuto, è indispensabile usare la mente logica. Ma quando vi si è invitati a cercare e a osservare e puntare la vostra cosità verso il già conosciuto, il già visto, quindi l'inaspettato, allora bisogna lasciarsi andare con altre regole. Allora, se stiamo parlando di una condizione di assolutezza, di infinito, stiamo anche parlando di una libertà che è assoluta, che è totale, e questo non significa poter fare tutto quello che si vuole in maniera indiscriminata, ma stiamo parlando di un essere liberi dal aver bisogno per forza di qualcosa per poter ottenere qualcos'altro. C'è un dover dipendere da qualcosa per avere in cambio un risultato. Ad esempio, un essere felici o soddisfatti o sentirsi realizzati grazie a quello che ci capita. Questo è un essere dipendenti, dipendenti quindi da quello che ci capita, quello che ci succede quotidianamente e che può portarci, quindi, a essere più o meno felici, più o meno soddisfatti, quindi, esperienze sempre misurabili, transitorie, che transitorie significa che un momento ci può stare e, secondo me, dopo può essere da un'altra parte, oppure temporanee, quindi con una data di scadenza, tutte caratteristiche che sono di questa realtà. Ricordiamoci, infatti, che questa realtà è caratterizzata dalla transitorietà, dalla temporaneità, quindi ogni cosa che noi cerchiamo, anche come punto di riferimento, per poter migliorare, per poter costruire nostra vita, attraverso, e anche costruire arte, attraverso queste regole, dobbiamo sottostare quindi a essere. E cosa significa, invece, che cercare un punto di riferimento di questo, ma cercarlo di qualcosa che invece è assoluto? Significa che non hai bisogno di nulla, nel senso che non hai la necessità che succeda qualcosa di particolare per poter essere felice o soddisfatto, gli altri esempi che avevo detto troppo di prima, perché la tua felicità, la tua soddisfazione, è a sé stante, perché è assoluta, quindi non hai bisogno di qualcosa di particolare che succede, esiste e basta, quindi è incondizionata, indipendente, anche se ti ritrovi in mezzo ad una pandemia, facciamo caso, o vinci il primo premio della lotteria, quindi non è, dipende a seconda di com'è il tuo padre, quanto si sveglia la mattina e come reagisce, oppure ai risultati che si ottiene a lavoro, o ti senti realizzato in misura di quanto vicino pensi di arrivare ai tuoi obiettivi personali, ma lo è a sé stante, anche quindi i problemi che potrebbero accadere e le soluzioni che potrebbero accadere, tutto ciò è indipendente perché la persona, quando fa esperienza di assoluto, similissima con l'assoluto, diventa indipendente, quindi tutto ciò lo trova già dentro di sé, e questa autonomia che io ho inventato politicamente con il termine auto-shamano, significa che appunto, se ci si medesima in qualcosa che è infinitamente più grande di noi, allora non è neppure più bisogno di andare a cercare fuori di te le soluzioni, i problemi, il motivo per essere felici, o la quantità di felicità per poter essere appagato, lo sai e basta, non hai bisogno di guaritorio, non hai bisogno di sciamani che ti conducono, lo sei già tu. Allora, per arrivare a parlare del Vangelo, il Vangelo la prima cosa che fa le persone che vogliono praticarlo è liberare dalle dipendenze, e quando sei libero dalle dipendenze, rimani solo te, sei quindi responsabile per te, senza dover avere bisogno di raggranellare soluzioni o attenzioni altrui. E questo è possibile, come ho detto all'inizio, se non si fanno preferenze, se non si fanno delle differenze, quindi se ci si astiene del dare dei giudizi sulle cose. Facendo degli esempi, però intanto volevo raccontarvi che sull'esempio di quando vado a vedere le opere d'arte, e quindi vedo le persone, anche da parte mia, la tendenza, l'abitudine, a anteporre innanzitutto la ragione, la logica, per poter interpretare un'esperienza che in realtà dovrebbe essere senza i limiti della logica e delle parole. Per evitare di mancare di condividere tutto questo con le persone, ho deciso di scrivere il libro. E però l'ho fatto utilizzando dei ragionamenti e delle parole. Ma questi sono ragionamenti e parole che provengono da un linguaggio che da sempre è utilizzato per suscitare delle visioni, che è il linguaggio della spiritualità. Infatti, anche se una persona non è sensibile alle cose spirituali, se le ignora, oppure è convinto di essere ateo, in realtà se fa parte di questa società è un cristiano, perché noi abbiamo avuto centoli di influenza della cultura cristiana, quindi dai nostri gesti più banali e dal mondo in cui sono state costruite le città, rispecchia questa cultura. Anche il modo in cui formiamo i nostri pensieri proviene da quel mondo. Quindi ho utilizzato proprio il linguaggio che proviene dai Vangeli come se fosse un terreno neutro per poter proporre a tutti quanti questa visione, come se fosse una specie di lingua esperanto per poter condividere qualcosa raggirando il problema di fermarci a delle definizioni, a delle precisazioni, a tutti i costi. L'esempio che potrei fare, che ho venuto in mente, sono due persone che si guardano allo specchio e la prima è convinta che tutto quello che vede di sé riflesso sullo specchio coincide con tutto quello che crede di se stesso. Mentre invece c'è la seconda persona quando si guarda allo specchio, tutto quello che vede riflesso di sé è convinta invece che sia soltanto una parte di sé e poi c'è tutta un'infinità d'altro che non è immediatamente percepibile ma è sempre se stesso. E secondo voi in cosa sta la verità in questo esempio? Quello che pensa la prima persona e quello che pensa la seconda persona? La seconda, allora è evidente. Sì, la maggior parte delle persone dicono la seconda ma in verità, in realtà, in nessuno delle due perché entrambi stanno cercando di utilizzare come strumento per captare, per conoscersi delle opinioni, delle opinioni che hanno personalmente cioè stanno creando dei giudizi in questo caso addirittura su di sé ma sono personali e quindi sono sempre fatti all'interno di questa realtà che funziona con le regole che abbiamo ripetuto prima cioè transitorietà, notevolezza e quindi cercare di conoscersi utilizzando questi strumenti che essendo passibili di incontrollabilità possiamo tranquillamente dire che tutti e due hanno ragione e tutti e due hanno torto la verità sta nello specchio e quello è l'unico santero e questo qui già ci mostra un piccolo ma significativo cambio di visione che avviene semplicemente inserendo nella nostra quotidianità la primissima regola della pratica del Vangelo che è non giudicare già questo è sufficiente per cambiare il punto di vista allora per essere più pratico posso fare l'esempio qui siamo a un festival dell'arte ovviamente siete tutti appassionati di arte se siete qui e ci sono anche artisti e dovete sapere che il lavoro dell'artista è il lavoro più competitivo che ci sia al mondo è più facile essere candidati come il prossimo astronauta che va sulla luna piuttosto per invitare l'artista fermato e giustamente quando mi cambio di incontrare a miei amici artisti che fanno dei lavori veramente stupendi notevoli giustamente sento anche la frustrazione di non avere un riconoscimento adeguato per i propri sforzi allora giusto così per tirare fuori un esempio e può capitare appunto che una persona appunto lavora fatica per realizzare quello che ama fare però non tiene il riscontro che ha e quando me lo confida giustamente mi dice sai Enzo io mi do da fare però alla fine è un buco nell'acqua cioè faccio le cose giuste faccio i corsi d'arte propongo le mostre nelle gallerie d'arte che valgono e vinco i bandi per l'artista e poi alla fine non ottengo nulla magari c'è un altro artista che fa cose più banali e ha le porte aperte è una lamentela una frustrazione giustificata ma un attimo poi questa persona aggiunge in questo esempio sapevo che sarebbe alla fine così perché ogni volta finisce così mi faccio i quattro e buco nell'acqua me lo sentivo ti pareva come ogni volta la persona di questo esempio si starebbe lamentando che non ottiene quello che vuole ma in realtà come tappiamo da quello che prova e che ci confida in realtà sta effettivamente ottenendo quello che vuole qui si sta affermando che già lo possiamo anticipare come c'è scritto anche nel Vangelo che quello che di cui uno ha bisogno quello che uno vuole lo ottiene e il problema è semmai che uno non sa che cosa desidera e quindi non riconosce l'appropriatezza di quello che gli succede nella vita la persona di questo esempio in pratica è come la persona dell'esempio di poco fa la prima persona che si guarda allo specchio e si riconosce soltanto in quella in quello che è immediatamente percepibile di sé e tutto il resto che è infinitamente più grande quindi magari è davvero una persona che vuole come tutti quanti avere successo facendo le cose che hanno a fare ma però c'è un'altra un'altra parte di sé che è decisamente anche più grande che la sua parte inconscia che magari sta andando in un'altra parte in un'altra direzione questo non significa che ovviamente se ci succedono dei problemi se ci succedono dei disastri delle disgrazie è perché noi lo vogliamo sto sottolineando che la nostra volontà si rispecchia in quello che facciamo questo è quello che viviamo è vero ma se non sappiamo che cosa vogliamo perché non ci conosciamo completamente allora si crea una disarmonia che va poi a farci vivere delle esperienze negative la soluzione sarebbe appunto conoscersi conoscere quella totalità di cui parlavamo all'inizio quindi conoscere se stessi è il primo passo la pratica del Vangelo porta a ricollegarsi con questa parte infinita che comunque è noi e quindi quando sei totale quando sei infinito e non c'è una parte che ti manca sei completamente te sei tutto te quindi tutto quello che ti capita è esattamente coincide con quello che vuoi con il tuo pensiero e quello che vuoi è esattamente quello che ti succede questo non significa che la pratica del Vangelo è una formula magica per poter ottenere esauditi tutti i propri desideri ma che quando uno arriva a questo punto non deve neppure più desiderare non ha neppure più bisogno di avere desideri perché tutto quello che capita già è quello che desidera non deve neppure più pensarci è già l'espressione dei propri pensieri quindi c'è una faccia e una completezza che ha a che fare sia con il discorso iniziale di lasciarsi andare a qualcosa d'oltre sia proprio nella vita quotidiana e questa cosa spero che l'abbia l'intuita che si può tranquillamente sovrapporre anche a un'esperienza artistica per la frase conoscere se stessi non è che l'ho detto perché fa effetto magari va di modo ma proviene anche dalle parole di Gesù quando spiegava o meglio cercava di dare delle idee a delle precisazioni che venivano chieste su che cos'è il regno questa espressione molto bella poetica del regno di Dio che è appunto questa condizione di assolutezza di sconfinatezza dove sei libero addirittura di avere bisogno di dipendere da quello che c'è fuori di noi e loro per poterlo spiegare spero di non dimenticare qualche parola questa espressione se le persone che vi guidano vi dicono che il regno è nei cieli allora gli uccelli che sono in cielo ci sono già arrivati prima di voi e ancora ironicamente dice se le persone che vi guidano vi dicono che il regno è nel mare allora i pesci vi sono prima di voi il regno è dentro di voi ed è fuori di voi conoscere voi stessi e quando vi conoscerete sarete conosciuti e saprete quindi saprete non perché qualcuno ve lo dice che sarete anche figli del padre vivente se non conoscerete voi stessi vivrete nella privazione sarete voi stessi in privazione quindi è indicato proprio che è indispensabile per poter accedere alla libertà assoluta a questa assolutezza che quindi anche permette di vivere un ideale per se stessi attraverso un percorso di conoscenza di sé e se non cosa che se non si fa si rischia appunto di vivere privazione c'è come un buco nero una voragine mentre invece se ci si conosce si viene conosciuti quindi si è presenti nel presente molto una frase molto affascinante che sintetizza abbastanza beh prima di terminare vorrei comunque parlare di un argomento visto che qui siamo a un festival dell'arte contemporanea che è abbastanza importante per noi artisti ed è la creazione così che magari spiegando di questo si riesca a percepire meglio il perché ho scritto un libro come questo e il perché deve essere un artista a parlarvi di queste cose e parlarvi della creazione parlerò utilizzando le conoscenze che provengono dal misticismo ebraico dal misticismo cristiano cioè le basi culturali da dove proviene Gesù Cristo e prima della creazione non esisteva nulla c'era solo Dio e quindi per poter spiegare come è possibile che ci fosse solo il creatore potesse essere nata la creazione perché se c'era solo il creatore come poteva creare qualcos'altro lui era già totalità come poteva esserci qualcosa oltre la totalità e come dire questa stanza è di 40 metri quadrati e vi invito a spostarvi nel 41esimo metro quadrato è impossibile non c'era neanche spazio per qualcosa altro perché era già totalità allora per spiegare questa cosa i mistici hanno usato un termine che tra l'italiano potrebbe essere contrazione infatti anche in fisica si pensa che all'inizio ci sia stato l'universo una contrazione anche se oggi si misura che è in espansione quindi è come se il creatore si sia ristretto ci abbia fatto un passo indietro per lasciare in sé lo spazio per ospitare la creazione quindi è come se si fosse ristretto per potersi duplicare poi potersi raddoppiare il linguaggio che usiamo nell'artista è fare una copia multiplo quindi tutto quello che c'è nell'esistente tutta la creazione è una copia di un originale che sta da qualche altra parte nei testi antichi infatti si usa il termine immagine la creazione è un'immagine è nel significato di semilitudine quindi è una riproduzione di un originale che gli gnostici descrivano modello ideale e diciamo che questo modello ideale per spiegarsi è nella mente di Dio quindi tutto quello che c'è nella creazione e tutto quello che possiamo creare nella creazione in realtà è una copia che proviene dal modello ideale questo processo è lo stesso che avviene anche nell'artista quando crea la sua opera d'arte che ogni volta che fa qualcosa che crea anche se non se ne rende conto ovviamente in realtà sta realizzando una copia che preleva dall'originale che sta nella sua immaginazione allora quando una persona fa qualcosa e facendola sta creando qualcosa la possibilità si può evolvere in due modi un modo egli si inorgoglisce si compiace per rendersi conto di essere un creatore e quindi è una cosa che fa ingrandire il proprio ego perché si rende conto di essere esistente e anche per gli altri diventa esistente l'altro modo invece è il perfetto contrario cioè abbassa il volume dell'ego lo va a silenziare e quindi perché ha la netta sensazione di non essere lui l'autore di quello che ha fatto perché in realtà è una coppia di quello che ha fatto la quale proviene da qualche altra parte cioè proviene dal modello ideale e quindi si considera uno strumento un tramite per qualcosa di infinitamente più grande di lui come si dice nel gergo artistico un medium artistico in realtà allora la prima persona a questo punto per poter creare di nuovo poiché non riesce più ad accedere al modello ideale perché questo flusso di creatività viene interrotto proprio dal fatto che lui si frappone tra questo il suo ego si mette in mezzo tra lui e il modello ideale perché egli è convinto di essere l'autore di quello che ha fatto a questo punto con questa interruzione può solo creare altre cose utilizzando quello che ha a sua disposizione cioè la sua propria immaginazione e infatti può lavorare operare solo nel già conosciuto in quello che conosce che proviene da quello passato o da quello che è attorno o da quello che può osservare dentro di sé e infatti spesso anche gli artisti ripropongono o ricreano cose già proposte invece l'altra persona fino a che si si vede come un mezzo come non il vero autore di quello che sta facendo malgrado passi il suo lavoro attraverso la sua fantasia la sua creatività la sua abilità il suo tempo allora mantiene aperto questo flusso di creatività che proviene direttamente dal modello ideale come parlavano gli antichi e in questo modo può creare qualcosa che proviene direttamente oltre a lui in questo assoluto e quindi creare oltre la propria immaginazione provate a figurare un artista che può realizzare opere d'arte che superano letteralmente la propria immaginazione e questo vale per qualsiasi cosa ho fatto l'esempio dell'arte ma in qualsiasi in qualsiasi caso ogni volta si fa qualcosa e lo si fa cercando un qualche interesse un qualche compiacimento oppure lo si fa semplicemente con l'amore di farlo con il piacere di farlo di farlo al meglio di farlo migliore con il piacere di fare qualcosa per portare un miglioramento quindi anche nelle cose più banali anche nella routine quotidiana anche preparando la cena anche uno non se ne accorge uno facendo così sta usando lo stesso processo creativo di Van Gogh immagine che non è in grado di immaginare e no e allora può soltanto andare a ripescare le cose che stanno all'interno della sua mente della sua logica che si è già conosciuto allo stesso modo può una persona voi potreste desiderare qualcosa che non conoscete e no perché se non la conoscete come fate a desiderarla quindi i vostri desideri i desideri delle persone si focalizzano su quello che già conoscono che è il loro passato e infatti spesso si vive riproponendo quello che già si sa quello che già si conosce oppure quello che abbiamo attorno che osserviamo attorno a noi quello che ci suggerisce la società ad esempio quindi agganciarsi e considerare immedesimarsi in qualcosa che è oltre a noi infinitamente più grande di noi permette quindi anche di desiderare di vivere esperienze che vanno oltre quello che potremmo vedere un'avventura sì penso che era di questo che volevo parlarvi stasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a Enzo c'è anche il libro per chi fosse interessato se avete delle domande a fare a Enzo qua adesso o mai più o mai più no no abbiamo l'infinito poi esatto poi intanto vi ricordo una cosa che domani alle 18 abbiamo la presentazione di un altro libro che è l'ultimo evento di presentazione così intanto pensate domande grazie a tutti grazie a tutti